Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata del circuito di catechesi dedicato ai nuovissimi. Stiamo ancora in purgatorio, anche se per la verità nell'approssimarsi del Natale stiamo più che altro respirando aria di paradiso che scende sulla terra, però dobbiamo seguire l'ordine del nostro itinerario e quindi proseguire il nostro viaggio nel purgatorio, anche perché è vero che stiamo quasi nel paradiso, però è anche vero che il giorno di Natale, secondo una dottrina che viene da diverse rivelazioni private, soprattutto di santi che hanno visto la realtà del purgatorio, detto non lo so se fare, forse sì, uno o due puntate supplementari per dare un'occhiata anche a un po' delle tantissime rivelazioni private che esistono sul purgatorio, che ci fanno un pochino approfondire alcuni dettagli che se non sono fondamentali certamente per la nostra salvezza, quindi non sono di fede divina e cattolica, però sono comunque utili per farci un po' una rappresentazione per quanto imperfetta di che cosa accade nel purgatorio, perché è evidente che trattare di questo argomento significa anche stimolare, ecco se è possibile, le anime a fare il possibile in questo mondo per ridurre al minimo, o per i più bravi addirittura evitare la sosta di purgazione, noi non possiamo certamente pretendere né sapere se abbiamo fatto opere sufficienti o penitenza sufficiente per risparmiarsi il purgatorio, questo non lo possiamo sapere, lo affidiamo alla Divina Misericordia, però certamente fare quello che possiamo a mio avviso è una cosa oltremodo saggia, ecco, perché ricordiamo sempre una cosa, prima di andare avanti con il Catechismo della Chiesa Cattolica, che la più piccola delle pene del purgatorio è più grande e più dolorosa delle massime delle pene sulla terra, il tempo che scorre durante la purificazione scorre molto più lentamente di quello terreno, quindi si soffre di più con una percezione del tempo peggiore rispetto a quella attuale e a volte le soste non sono proprio così tanto brevi e vedremo che sono anche diversificate, ecco, quindi invece se noi ci offriamo un pochino qui, accettando con amore anzitutto le croci che il Signore ci manda di tutti i tipi, le malattie, il caldo, il freddo, le contrarietà, le avversità, i difetti di chi ci sta intorno, le offese, le omigliazioni, le calunnie, le maldicenze, gli oltraggi, gli insulti, ecco, quindi ci sono tante cose, insomma, che la fatica anche del lavoro e altre cose, no? Le penitenze volontarie che noi offriamo e che ci disponiamo a offrire dalle piccolissime rinunce, come può essere, insomma, offrire al Signore un caffè, nel senso che, ecco, noi non possiamo offrirgli un caffè al Signore, d'accordo? Però possiamo offrirgli quello che non beviamo noi, ecco, in senso spirituale, no? Alle grandi penitenze, ai grandi digiuni, alle grandi austerità che hanno fatto i Santi, e anche coloro che generosamente mossi da spirito di cristiana penitenza si incamminano sulle orne, no? E' una cosa molto saggia, perché questo, come già detto, non soltanto ci fa risparmiare o abbreviare il purgatorio, ma ci procura anche dei meriti, perché le opere buone o le penitenze che noi offriamo in questa vita ci procurano qui un aumento di grazia e poi un aumento di gloria, oltre che l'espiazione delle colpe. Quindi, quale persona, come dire, ragionevole, saggia, alla luce di queste cose, non si risolverebbe a fare delle scelte quanto mai opportune, no? Ecco, il senso di una trattazione catechetica proprio di questo argomento è anche questo, quindi non soltanto appunto formare attraverso la luce della fede e della sana dottrina la nostra conoscenza soprannaturale di queste realtà, no? ma anche stimolare l'azione, ecco, come sempre proprio della predicazione catechetica. La predicazione catechetica stimola sempre l'azione, perché è sempre una provocazione che punge, diciamo, un po' e che quindi dovrebbe stimolare, invitare, esortare, portare a delle scelte di vita conseguenziali a quello che si ode. Ora, riprendo, ci siamo formati la volta scorsa al Catechismo della Chiesa Cattolica, alla sua descrizione del Purgatorio. Dovremmo avere già letto il 1031, il 1032, se non ricordo mai. Sicuramente il 1030 l'abbiamo letto, quello sull'esistenza del Purgatorio. Io ripartirei da qui, se li abbiamo già visti la volta scorsa, li ripassiamo e poi andiamo avanti con alcuni interessanti numeri del Catechismo e vediamo se riusciamo anche a trattare questa sera delle indulgenze e dei suffragi. Allora, anzitutto, 1031, Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi la versione estesa del nuovo Catechismo. Il Purgatorio è una verità di fede. Qui cito, la Chiesa chiama Purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al Purgatorio soprattutto nei concili di Firenze e di Trento. Questi li abbiamo già visti. La tradizione della Chiesa, rifacendosi a certi passi della scrittura, la parla di uno fuoco purificatore. Quindi, vedete com'è Purgatorio, Pior Pioros in greco non dimentichiamo che significa fuoco, quindi da cui viene anche la nostra Pirite, no? Oppure il termine Piromane. Sapere un pochino di greco ci aiuta anche a conoscere le etimologie delle parole, no? Quindi Purgatorio è come Piromane, è come Pirite, quindi è Pior Pioros, il greco. Quindi, figurate se nel Purgatorio non c'è il fuoco. Il fuoco dà il nome stesso a questa realtà di fede. Quindi, il fuoco, anche il termine purificazione, sapete che significa letteralmente purificazione? Fare il fuoco, te do fuoco! Quindi, ma è un fuoco, attenzione, finalizzato, perché c'è un... Guardate che ci sono tre fuochi, amici cari, eh? Il fuoco sta dappertutto, solo che c'è un fuoco bello, che è il fuoco del Paradiso, che è il fuoco dell'amore. Quello non fa male, quello fa bene, come quando noi siamo infiammati di amore divino. Poi c'è il fuoco del Purgatorio, che è un fuoco che fa male, ma è un male salutare, perché è un male che serve a sfrondare, quindi a bruciare ciò che ci ostacolerebbe nell'unione con Dio, detto proprio in termini semplici. Mentre il fuoco dell'inferno è un fuoco che fa male, punto e basta. Perché è un fuoco, come dire, neanche spiatorio, è un fuoco, il termine adatto dovrebbe essere retributorio, è il fuoco dell'amore respinto, e che quindi arde non come principio di beatitudine o come principio di purificazione, ma appunto come fonte di dannazione, insopportabile, terrificante, e basta, semplicemente finalizzato alla retribuzione della colpa non espiata e soprattutto di cui non ci si è pentiti del dannato. Ecco perché è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati. Castigo dei dannati non voglio certamente criticare il catechismo, però io non avrei utilizzato il termine castigo, perché castigo non è un termine da inferno, perché anche qui il termine castigo stavolta ci aiuta il latino, non il greco, viene dal latino custom agere, che è la stessa cosa del greco purificare in un certo senso, cioè custom agere vuol dire rendere casto, casto sapete che significa pulito, significa puro, quindi perché castigo il Signore ce li manda qui su questa terra, nessuno si scandalizzi di questo qua, è per la vostra correzione che voi soffrite, si regge nel libro di, nella lettera degli ebrei, quale padre che voglia avere un figlio non lo castiga e quindi noi siamo castigati in questo mondo da Dio non certamente perché perché il nostro Signore ci ci punisce o si vendica o queste visioni diciamo così un po' distorte e negative, no? ma è una purificazione quindi è una è un atto d'amore del Signore che dovrebbe essere nelle sue intenzioni finalizzato alla conversione del peccatore mentre per i dannati non è così ancora non è un castigo quella è una pena meglio che castigo quindi sono le pene eterne pena appunto anche nel diritto penale ricordano da proprio l'idea della retribuzione giustamente meritata a causa del male commesso ecco è un'altra cosa la correzione e la purificazione sono una cosa la retribuzione è un'altra cosa ti prendi quello che ti sei meritato ecco 1032 accenna introduce il carichismo al valore dei suffragi e delle indulgenze e si legge cito questo insegnamento ossia insegnamento sulla verità di fede del purgatorio poggia anche sulla pratica della preghiera per i defunti anche questo passo l'abbiamo visto dalla sacra scrittura di cui la sacra scrittura già parla e cita l'epiceroa di Giuda Maccabbeo che fece offrire il sacrificio spiatorio per i morti perché fossero assolti dal peccato l'abbiamo visto questo qui nella parte dedicata appunto alla rassegna biblica sul purgatorio fin dai primi tempi la chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi in particolare il sacrificio caristico affinché purificati possano giungere alla visione beatifica di Dio la chiesa raccomanda anche le elemosine le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti qui c'è già una bella introduzione quindi cosa posso fare allora qui ecco entriamo un pochino nell'ambito catechetico allora amici cari cioè il problema del nostro rapporto con la morte è un problema decisivo della nostra fede non soltanto la nostra morte ma anche la morte delle persone a noi care io sacerdote vi dico parlo con la gente ricevo mail telefonate quindi sto sempre a contatto con tante situazioni no e celebro la montagna la montagna celebro qui non tantissimi comunque ho celebravo 300-400 funerali sicuramente in vita mia forse pure 500 chi lo sa sono quasi 20 anni che sono sacerdote quindi ne ho viste abbastanza non proprio tutte ma abbastanza allora cioè vedere un battezzato a parte il fatto che purtroppo oggi quando uno c'è dal funerale ti rientra in chiesa di tutto quindi anche gente che sono 20 o 30 anni che non ci mette piede no ma vedere scene di disperazione è una cosa che non si può vedere certo che per la morte di una persona a noi cara si sente il distacco certamente non è una cosa gradevole umanamente parlando perché c'è qualcosa no ma attenzione cioè noi non siamo pagani peccatori la morte non è la fine della vita l'unica cosa sensata da fare quando ci muore una persona cara insieme a un atto di adesione profonda alla volontà di Dio a non versare lacrime esteri inutili se non proprio una lacrimuccia che può scappare ma quelle non sono lacrime cioè meno meno ci si ferma è meglio ma la cosa sensata è se tu veramente hai fede e ami la persona vuoi fare del bene alla persona che è defunta da quel momento in poi comincia a rimboccarti le maniche e a bombardarla di soffragi la celebrazione delle messe ma io non ho i soldi per fare le offerte delle messe vabbè allora il digiuno puoi fare le opere di penitenza vanno anche bene il digiuno non costa soldi anzi li risparmi perché se non mangi risparmi no? ah ma io non so ci sono tante cose da fare le indulgenze le indulgenze basta che ti fai mezz'ora come vedremo di preghiera davanti al santissimo sacramento continuata e quella c'è già l'indulgenza plenaria quindi o se reci di rosario in chiesa quindi questo si può fare no? le lemosine anche le lemosine è un gesto penitenziale guardate che è molto doloroso le lemosine perché quando noi mettiamo le mani dentro il portafoglio sia che sei povero sia che sei ricco nessuno di noi pensi per favore di essere distaccato dal denaro perché il denaro è una brutta bestia e l'unico modo che noi possiamo come dire sperare di avere per non esserne troppo avvinghiati è fare le lemosine se mi posso permettere serie cospicue e soprattutto costanti certamente ognuno si deve mettere seduto e fare il suo discernimento e fare le sue valutazioni eccetera però amici cari come tante volte ho raccontato ogni lemosina che noi facciamo è tu prendi togli dei soldi tate ma li versi nella banca del cielo ok la banca del cielo la BDC io la chiamo cioè tasso di interesse 100 per 1 perché ogni centesimo che tu dai nell'emosina ti torna in grazie e benedizioni qui e in vita eterna dopo l'emosina copre una moltitudine di peccati si legge nel Nuovo Testamento che la carità e l'emosina è un'opera eminente di carità copre una moltitudine di peccati come fare le lemosine le lemosine le lemosine possono fare per i poveri per i bambini del quarto mondo le adozioni a distanza dei bambini ci sono tante organizzazioni anche online le messe fatte celebrare per il prossimo quella è doppia opera perché c'è l'opera buona per il defunto ma siccome per la messa si lascia un'offerta c'è anche questo gesto che è un'emosina si possono mandare i soldi per le missioni alla propria parrocchia al proprio parroco a sostegno di qualche opera buona delle opere di apostolato della chiesa universale o di qualcuno in particolare ogni centesimo dato in unemosina è un versamento nella banca del cielo e anche qui cioè noi abbiamo il Vangelo con l'opola della vedua no? è chiaro che una persona che sta bene che è benestante può fare delle cospicue le emosine una persona che sta sulla soglia della povertà non può fare delle cospicue le emosine non le deve fare però il Signore quei 10 euro quei 20 euro che si può far scappare al mese che dovessero scappare per una emosina ma li gradisce come perla preziosa li gradisce no? perché quando una persona sta cioè quei 10-20 euro sono l'equivalente dei 200 per chi sta meglio dei 2000 per chi sta meglio ancora dei 20.000 per chi sta meglio ancora dei 200.000 per chi sta meglio ancora c'è una proporzione c'è no? se uno c'è un patrimonio c'è 100.000 euro in banca è diverso da una persona che ha 5.000 euro in banca no? è chiaro questo qui no? ecco e allora è chiaro che una persona che ha 100.000 euro in banca se dà un euro a quel povero disgraziato che sta fermo al semaforo a pulirci il vetro per carità quella è un'opera buona che comunque quell'euro gli conta però a chi c'è 100.000 euro a chi non gli fa proprio nel caldo nel freddo certo che se è un poveretto che campi di stipendio campi di pensione risicata quell'euro per quel poveretto pesa abbastanza molto di più che per un ricone insomma o per una persona che sta comunque benestante no? anche le messe no? io raccomando sempre chi può fare chi vuole fare un bel regalo a un defunto faccia fare le messe gregoriane è sempre possibile farle fare ecco c'è un sito ora lo dico pubblicamente così aiutiamo le persone online c'è un sito che si chiama aiuto alla chiesa che soffre io per me ho una grandissima risorsa si chiama lì si fa anche un'opera doppiamente buona perché lì specialmente con le messe gregoriane distribuiscono messe in tutto il mondo a sacerdoti che hanno bisogno tra l'altro quindi che ci campano con quelle cose l'offerta con cui si fa è proprio la minima indispensabile sono 300 euro ci sono alcune realtà anche nella che per fare un ciclo di messe gregoriane magari a volte chiedono un'offerta un pochino superiore perché se uno accetta un ciclo di messe gregoriane vuol dire che per 30 giorni consecutivi non può fare nient'altro che quello non può prendere attenzione eccetera quindi si blocca un pochino le mani però non solo aiuto la chiesa che soffre manda in giro all'offerta minima queste messe a sacerdoti poveri del mondo intero e ti dà se tu lasci i recapiti ti manda anche una bella letterina a casa con un bel cartoncino caruccio dove è scritto la messa per Francesco sarà celebrata dal sacerdote X che sta nel seminario che ne so della Tanzania a partire dal giorno Y quindi proprio meglio che così però dice io non ce l'ho 300 euro sarebbe una cosa eccessiva per fare questa messa per mia madre allora il Signore guarda sempre il cuore se tu non ce l'hai veramente quindi non è perché se tu riesci con un grande sacrificio a farlo il nostro Signore darà grandissima ricompensa questa è un'opera non c'è opera più grande che si possa fare per i defunti se invece proprio non ce la puoi fare ne posso far dire due di messe ma il nostro Signore certamente quelle due messe che sono figlie diciamo così del tuo sangue spirituale insomma perché ti vai a privare di qualcosa per poterle far celebrare certamente avranno dinanzi alla divina clemenza un valore grande no adesso io non lo so se il nostro Signore le accetterà come se fossero messe gregoriane non ci sto nella testa sua non mi posso guai a noi se ci permettiamo insomma di di parlare come dire in nome di Dio prendendo a prestito conclusioni o affermazioni di cui non possiamo essere certi ma chi chi te l'ha detto a me che due messe anche se ci sono in questo modo le considero come messe gregoriane lo possiamo sapere però quello che possiamo ragionevolmente presumere è che il nostro Signore guarda il cuore e quindi guarda le situazioni e quindi è chiaro che quando ci si trova in ristrettezze deve tenerne conto in qualche modo no ecco quindi per ora va bene così ora più avanti il catechismo nel numero 1472 ritorna un po' sul tema del purgatorio quando parla chiaramente del perdono dei peccati no allora e scrive queste parole molto edificanti il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato attenzione questi concetti sono fondamentali rimangono tuttavia le pene temporali del peccato allora dato che questo è un incontro di il peccato mortale spiega San Tommaso d'Aquino ci espone a due tipi di pene che si chiamano tecnicamente la pena eterna chiamata anche pena del danno e la pena temporale chiamata anche pena del senso la pena del danno è la privazione della visione beatifica e la dannazione ecco detto proprio in termini della compagnia eterna dei demoni il tormento eterno la pena temporale sono le sofferenze necessarie per espiare riparare e purificare le conseguenze del peccato commesso un peccato mortale ha due reati di pena spiega San Tommaso quella eterna e quella temporale un peccato veniale ha un solo reato di pena quello relativo alla pena temporale ok cosa sta dicendo il catechismo che il perdono del peccato qui chiaramente parla del peccato peccato il peccato mortale potremmo glossare e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne quindi tu ti vai a confessare c'è il perdono dei peccati e all'inferno non ci vai detto in termini proprio prosaici così non diamo luogo ad equivoci ma rimangono le pene temporali del peccato all'inferno un nome purgatorio sì ecco perché io ammonisco sempre le persone perché ammonire i peccatori è un'opera di misericordia spirituale per tutti ma per un prete è un dovere dico ah sta attento dice sì specialmente quando si pecca del sexto ho fatto un altro peccato in puro solitario tanto mi vado a confessare che il problema c'è il problema c'è figlio mio perché se anche tu fossi realmente pentito e se fai questa cosa in maniera abituale e senza emendarti che ci sia un vero pentimento è tutto da dimostrare e si può inaugurar il rischio la varietà del sacramento la fa sacrileggi però tu ricevi l'assoluzione e la pena temporale però te la scordi molti secoli fa le penitenze in uso per un peccato impuro solitario erano cospicui giorni di digiuno a pane e acqua il che significa che il danno prodotto da quel peccato e la riparazione che richiede sono tanti digiuni un peccato impuro solitario che diciamo nella scala dei peccati di opera de sexto sta nel gradino più basso anche se è mortale evidentemente però non è come partecipa a Norgia per essere un pochino brutali allora che facciamo con queste pene temporali del peccato il cristiano deve sforzarsi sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere e venuto il giorno è con altro te affrontando serenamente la morte di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato guardate l'ottica no qui si parla di noi prima abbiamo parlato di come siamo in relazione ai defunti di come affronti la morte di un defunto di una persona cara è morto mio padre è finita la vita ma che ti è finita la vita ma non succede niente non succede è finita la vita terrena di tuo padre stop cerca di santificarti il più possibile in modo tale che ti metti a rivaro perché il problema è soltanto uno sia nell'altro mondo se si trova uno in paradisi uno all'inferno questo è l'unico problema di cui temere o peggio ancora tutte e due all'inferno peggio ancora perché se mamma e figlio si trovano insieme all'inferno altro che si odieranno mamma e figlio questo ci pensiamo mai eh se si trovano mamma e figlio all'inferno cioè l'amore di una mamma per un figlio si odiano ferocemente si fanno del male l'uno verso l'altro con odio allo stato puro ok torniamo al purgatorio che arriva Natale stiamo un pochino più un po' meno tristi un po' più allegri allora ti viene una malattia c'è un acciacco c'è un affanno c'è una contrarietà della vita tu la prima cosa che devi pensare bene signore grazie che mi consenti di offrirti questa piccola cosa perché questa mi risparmia il purgatorio lo sta dicendo qui il catechismo non lo dico io sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere è venuto il giorno affrontando serenamente la morte accettare come una grazia a queste pene temporali del peccato una grazia perché nell'ottica di Dio queste sono una grazia a te ti viene un acciacco ti viene una malattia ti viene una cosa e comincia a pensare uh che disgrazia siamo sicuri che è una disgrazia il catechismo dice di accettarle come una grazia ringrazia il Signore ti va a soffrire un po' qua e so tutte quante pene del purgatorio risparmiate oh e poi affrontando serenamente la morte prima abbiamo parlato della morte delle nostre persone care e la tua e non vorrei dire un'altra volta che ora sono in continuazione delle pazzie degli ultimi due due tre anni terrorismo assoluto circa la morte corporale ma che è un problema la morte corporale per noi figli di Dio solo in un senso che non ci arrivo pronto o che non la accetto serenamente anzi addirittura qualcuno l'aspetta non è che l'aspetta perché è un perché è un necrofilo d'accordo un amante della 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 morte ma perché è un amante della vita perché la morte è l'unica possibilità che noi abbiamo per entrare nella beatitudine qui fino a quando siamo sulla terra tu puoi amare Dio quanto ti pare puoi essere santo quanto ti pare ma stai sempre in uno stato di interdizione come dice San Paolo fino a quando siamo nel corpo e lì parla un innamorato San Giovanni Crisostomo di San Paolo disse il cuore di Paolo era il cuore di Cristo quanto era ardente d'amore fino a quando siamo nel corpo noi siamo in esilio lontani dal Signore camminiamo nella fede non ancora in visione lo scrive San Paolo e San Paolo ha avuto anche le estasi come racconta nella seconda lettera corinzi quando dice che conosco un uomo che è stato rapito fino al terzo cielo quello è lui quello lì non è che qualcun altro il Vangelo che predicava San Paolo l'aveva ricevuto per rivelazione diretta di Gesù Cristo ce lo dice lui stesso una lettera ai Galati quindi aveva avuto le visioni aveva avuto le estasi però cominciano a scrivere sì aveva avuto le visioni le estasi però finita l'estasi noi torniamo sul pianeta Terra e qui stiamo in esilio stiamo lontani dal Signore San Paolo stesso ci ha avuto lo stimolo scarnis quindi ha avuto probabilmente una cosa simile a quella che ci hanno avuto San Francesco e San Benedetto il messo di Satana mi ha messo una spina nella carne e mi schiaffeggia e ho supplicato che lo cacci e non me lo caccia per cacciarlo San Benedetto e San Francesco si sono buttati dentro le spine per cacciare la tentazione impura e San Francesco ha fatto pure la replica che in un'altra circostanza quando è stata sull'Averno si è rotolato nudo dentro la neve perché perché stiamo in stato di interdizione perché tu puoi essere un giglio sicuramente come era San Benedetto e San Francesco ma un bel giorno si impazzisce la concupiscenza anche senza che ci sia una causa adeguata ti dice sai mi sono messa no 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 così e tu avverti questa cosa qui che non la controlli cioè e per calmare devi buttare dentro la neve quindi non è una cosa allegra campare in questo modo no carità uno fa tutto ma meglio andassene in paradiso dove queste cose qui non ci stanno più e dove si gode alla grande insomma nell'Unione Beatifica e in tante altre belle cose come sentiremo se Dio vuole dopo domani nella nella catechesi su su Tenera Amata no e quindi quale tragedia sarebbe sta morte quale tragedia quale terrore chi c'ha il terrore della morte propria o della morte di qualche familiare mi dispiace amici miei deve crescere un pochettino nella vita cristiana non è possibile non sono due cose compatibili il terrore della morte e l'essere figli di Dio seguaci di nostro Signore Gesù Cristo di colui che l'ha vinta la morte e ci rende partecipi della sua vittoria anzi po' allora le prove della vita ma sotto questo punto di vista allora uno poi con gioia offre qualche penitenza no? o no? perché la penitenza cristiana è gioia cioè non pensate ai 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 grandi penitenti come gente che sta curva con con la testa storta capito? che sta a dire in giro la mamma quante penitenze che sto fa quanto sto soffri e non ce la faccio più se leggete le opere delle grandi santi una santa Veronica Giuliani nessuno penso che sia in grado di di sopportare un carico di penitenze come come questa piccola santa donna ma se lo getto le biografie quella abbia ad essere di monastero nella vita quotidiana con tutto quello che di così sobbarcava tutta la cosa che portava addosso le catene i cilizi eccetera eccetera tu la vedevi però una persona normalissima affabile gentile dolce cioè una persona che magari avesse fatto una visita di un monastero non si può fare la visita di un monastero ma che la avesse incontrata nel parlatorio non avrebbe certamente compreso che quella era un'anima che dire penitente è dire poco era un'anima crocifissa proprio sotto tutti i punti di vista ma è il santo c'è la la penitenza sotto il sorriso sotto una vita come dire comune nessuno sa quello che fa e non lo deve sapere perché lo sa il signore ma è anche perché la penitenza stessa vissuta in questo modo non è come dire amma mia che mi tocca fa no è gioia ci stanno le pene temporali del peccato ce ne vogliamo liberare e fammo qualcosa proporzionatamente certamente al grado di di fede alle condizioni fisiche alla generosità che uno sa a quanto ha interiorizzato queste cose in ogni caso una grazia le pene e le sofferenze le prove è una grazia pure alla morte corporale Sant'Alfonso diceva che se una persona io ripeto sempre se lo diceva lui Sant'Alfonso probabilmente qualche piccolo filo diretto ce la vive lui diceva che se una persona offre accetta la morte serenamente e la vive in maniera cosciente il signore io ti offro questo gesto quindi del morire di lasciare la vita di lasciare le persone care volentieri d'accordo e magari Sant'Alfonso diceva fai l'esercizio prima dice offriti al signore io fin da adesso accetto di morire quando tu ti stabilirai nel luogo in cui vorrai solo come un cane solo come un cane e in mezzo ad atroci spasimi di un'agonia per terribile così martire oppure di malattia oppure circondato dall'affetto delle persone care non lo sappiamo quello che vuoi tu va bene e quando poi arriverà chiamalo tu il sacerdote prima quando sei ancora in tempo ha fatto il danno l'io santo fa la confessione generale pia del viatico chi fa tutte queste cose qui il purgatorio se lo risparmierà del tutto questo io non lo posso dire perché bisogna farlo dire al giusto giudice però sicuramente se non risparmia parecchio poi deve impegnarsi prosegue sempre il 1473 attraverso le opere di misericordia e di carità così pure mediante la preghiera e le varie pratiche di penitenza a spogliarsi completamente dall'uomo e che rivestire l'uomo nuovo catechismo della chiesa cattolica 1473 è questo per chi ama le cose moderne non moderniste ecco ma chi ama le cose poi dice ah no queste cose qui sono obsolete adesso non si fanno più il catechismo della chiesa cattolica non dice questo opere di misericordia le conosciamo le opere di misericordia corporale spirituale di carità facciamo un ripasso rata mangiare agli affamati rata bella agli affamati vestire gli ignudi alloggiare i pellegrini visitare i malati visitare i carcerati e seppurdire i morti queste sono le opere di misericordia corporale queste cose dovremmo saperle saperle non farle perché bisogna farle le opere di misericordia corporale e poi le opere di misericordia spirituale consolare gli afflitti consigliare i dubbiosi insegnare agli ignoranti ammonire i peccatori perdonare le offese sopportare pazientemente le persone moleste pregare Dio per i morti sono queste altre sette vedete come le sparo alla grande perché se uno cerca ecco più ne fa e meglio è la preghiera la preghiera più ne fa e meglio è ogni preghiera che noi facciamo la preghiera è un'opera è anche un'opera penitenziale no? io dico sempre le persone che in qualche modo mi seguono da vicino o da lontano certo che pure per quanto riguarda pregare tutte le veglie che facciamo del giorno del notte due ore tutta la notte ave Giuseppe ave Maria eccetera eccetera cioè voi pensate che che una persona cioè per esempio fare le mille ave Giuseppe le mille ave Giuseppe sono cinque ore consecutive di preghiera vocale cioè è un sacrificio non indifferente cioè faccio una fatica immensa io che sono abbastanza pregato abbastanza abituato a pregare quindi immagino una persona ci pensiamo ma quanto purgatorio ti risparmia una botta del genere una botta scetica del genere che valore c'ha la dinanzi al Signore mica tutti fanno una cosa del genere o tutti i rosari che facciamo o le messe a cui partecipiamo qui va tutto a concorrere cioè capite c'è anche un valore intrinsecamente penitenziale di queste cose che facciamo e quanto più una persona sa di essere stata peccatrice a livello oggettivo soggettivo questo pazienza ma tanto più è opportuno che si dia da fare diciamo così in tutte queste cose quindi preghiera e pratiche di penitenza sta scritto qui le pratiche di penitenza la penitenza virtù non la penitenza sacramento cioè le opere penitenziali ripeto che stanno le piccole e le grandi le opere penitenziali sono tutte quante quelle opere che sono finalizzate alla mortificazione dei cinque sensi il tatto quindi le cose che ci fanno soffrire nel corpo il gusto quindi il digiuno tutte quante le mortificazioni corporali la vista chiudo la televisione per un po' di tempo questa è quaresima a parte che la televisione più sta chiusa meglio è quindi comunque bisogna fare sempre una selezione della qualità e del tempo sia di quello che si vede che di quello che uno ascolta no? ecco le orecchie il silenzio e l'olfatto può essere la rinuncia a qualche profumino per chi gli piace improvumarsi un po' ecco o sopportare pazientemente che ne so ecco i cattivi odori che ci stanno intorno vabbè adesso vediamo che punto stiamo con i tempi allora introduciamo adesso sempre partendo dal catechismo perché è proprio qui che ne parla in questa sezione il tema delle indulgenze che cos'è l'indulgenza? seguiamo sempre il catechismo della chiesa cattolica per inquadrare l'indulgenza cosa sono le indulgenze? allora abbiamo chiari ho fatto questo discorso sulla pena eterna e la pena temporale perché se uno non ha chiaro per esempio il discorso sulla pena temporale dovuta per il peccato non capisce niente delle indulgenze l'indulgenza l'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati proprio di questo già rimessi quanto alla colpa cioè sia che era un peccato mortale confessato sia che era un peccato veniale confessato non confessato voi sapete che i peccati veniali la chiesa raccomanda la confessione ma non perché sia indispensabile per avere misericordia questo sia chiaro questo qui perché i peccati veniali vengono rimessi attraverso anche attraverso altre modalità anche la comunione sacramentale di San Tommaso rimette i peccati veniali ok per questo che prima della Santa Messa facciamo il confitior d'accordo all'inizio della Santa Messa perché è perché qualche cosa se qualcuno pensa di arrivare davanti al Signore non avere bisogno della sua misericordia per le moltissime cose che non vede oltre che per le volte che vede sta proprio fuori strada il motivo per cui si confessa nei peccati veniali è perché l'atto stesso del confessarsi anzitutto è una penitenza quello si chiama sacramento della penitenza quindi compiere questo atto specialmente portando dei peccati che non saresti tenuto a portare è un'opera meritoria io non sono dovuto a confessare se ho detto una bugia di scusa non è materia obbligatoria di confessione ma se la confesso e quindi mi umilio certamente davanti al Ministro di Cristo ma comunque mi umilio a dirla è un'umiliazione a cui io non sarei tenuto mentre se hai fatto peccato mortale tu con l'umiliazione te la devi prendere per forza e devi pure raccontarli bene i peccati mortali specialmente alcuni che sono quelli che si vanno a maggiore difficoltà perché proprio quelli vanno confessati per specie numero e circostanza un peccato veniale no se io ho perso la parte tanto è vero che se io per esempio non porto dentro la confessione un peccato veniale qui c'è Sant'Alfonso che ha detto un sacco di cose non succede niente certo se ne sono consapevole e vado a confessarmi è bene dirlo ma se volessi non farlo posso farlo senza che questo renda sacrificio di lega la confessione chiaro? quindi la confessione dei peccati veniali è un'opera di penitenza è un mezzo di perfezione per un altro no? e comunque ne abbiamo bisogno e comunque siccome non possiamo essere manco tanto sicuri perché tu sei sicuro che quella cosa del peccato veniale non sempre è semplice la distinzione ci sono delle cose che magari noi pensiamo che sono delle stupidaggini per esempio c'è molta gente che pensa che le volgarità siano dei peccatucci veniali le volgarità in senso stretto non lo sono quindi se si va a confessare se ho detto le parolacce e dentro la testa sua prensa che le parolacce siano un peccato piccolo però in realtà sta confessando un peccato grande e quindi la soluzione è sommamente salutare no? allora è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati già rimessi quanto la colpa remissione che il fedele attenzione debitamente disposto e a determinate condizioni acquista per intervento della Chiesa c'è un intervento della Chiesa che afferma guarda se ti trovi in certe condizioni fai certe cose e hai le debili e le disposizioni interiori grazie ai meriti e alle soddisfazioni di Cristo e dei Santi riceverai l'indulgenza plenaria o parziale dei tuoi peccati quindi rileggo il testo del Catechismo l'indulgenza alla remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati già rimessi quanto è la colpa remissione che il fedele debitamente disposto e a determinate condizioni acquista per intervento della Chiesa oltre all'elemento la quale come Ministra della Retenzione autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi cioè quanto ha sofferto Gesù la sua vita terrena tanto quante penitenze ha fatto anche la Madonna tantissime tantissime e molto più cruente di quelle che pensiamo anche se nel segreto a qualche anima la Madonna qualche cosa l'ha rivelata poco perché lei parla poco di sé ma possiamo pensare che la regina dei martiri certamente sul calvario ha avuto la morte mistica e il suo dolore ma in privato che faceva la Madonna secondo noi dopo faceva qualche digiuno secondo noi dormiva sempre nel letto comodo con materassi e piumini qualche volta sì ma sempre sempre io qualche dubbio ce l'ho insomma no eccetera è tutto quello che hanno fatto i Santi leggete un po' di vita dei Santi non avete un po' di penitenze che hanno fatto i Santi che ci fanno vergognare proprio che uno quando legge quelle cose dice ma io che ho fatto in relazione a quello che hanno fatto questi grandi eroi qua ho fatto un tubo quindi niente guardate che alcuni hanno veramente esagerato cioè veramente io nella fase in cui il Signore mi mise dinanzi tantissime vite dei Santi che era la fase un po' dell'inizio del seminario quindi di quando uno non capisce più niente che è tutto contento che sta seguendo la vocazione ma guardate che io quante 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 giornate mi sono andate salutarmente per storto perché leggevo tutte cose però non pensavo altro da mattina alla sera di quando tu guarda questo che ha fatto guarda questa che ha fatto ma come hanno fatto a fare queste cose hanno fatto e tutto questo va a confluire nel tesoro perché non c'è nessuna opera buona ne facciamo che parla dispersa quella va nel tesoro della chiesa ci stanno i pagamenti per qualunque peccato lì figurate basta basta quello che ha fatto Gesù Cristo per la verità ma lui ha voluto associare anche la sua chiesa nella sua opera quindi tutta la penitenza dei santi la chiesa ti concede io ti concedo di farle tue queste cose a condizione che ecco ci sono delle condizioni generali perché per acquistare qualunque indulgenza è necessario uno lo stato di grazia uno anche quando si tratta di indulgenze che prevedono una singola opera tu non acquisti nessuna indulgenza se non stai in grazia perché è chiaro che non puoi avere la remissione della pena temporale se non ti è stata rimessa la colpa del peccato mortale questo è chiaro questo qui però per acquistare un'indulgenza plenaria è sempre necessario il distacco dell'affetto dal peccato attenzione anche veniale perché l'indulgenza plenaria è una cosa grossa e il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale è una cosa impegnativa perché che cosa significa così poi non mi fanno le domande non mi fanno le mail a proposito c'è un sacco di gente che fa un sacco di domande per esempio sui commenti dei video di youtube io non ho tempo né modo ci sono dei moderatori i commenti non vanno direttamente sul canale youtube ci sono dei moderatori che moderano i commenti se c'è qualcuno che deve fare qualche domanda intervenga durante le dirette oppure mi fa una telefonata mi fa una mail io in pub non ho assolutamente immaginate cioè quando io sono un povero prete però tra facebook youtube twitter telegram cioè voi immaginate se mi mettessi a rispondere a tutti tutti i commenti di tutti quanti i video cioè non farei altro la mattina la già sto abbastanza capite no quindi non si può ecco allora che cos'è il distacco dell'affetto dal peccato veniale vuol dire semplicemente una cosa piuttosto che dire una bugia di scusa mi farei ammazzare come dicevano i santi San Domenico Savio la morte anziché il peccato veniale dire la morte anziché il peccato mortale sarebbe bene che lo diciamo tutti la morte anziché il peccato veniale è un pochino più impegnativo se questa cosa non c'è e anche qui noi non possiamo avere la certezza assoluta che ci sia sulle cose interiori ricordiamo sempre che camminiamo sempre nell'umiltà perché il concilio di Trento ci dice già che noi non possiamo essere sicuri nemmeno di stare in grazia di Dio possiamo presumerlo possiamo sperarlo ma non esserne sicuri al 100% per cui dice ah ma io ho preso l'indulgenza premrenaria ciò li distacco dal peccato veniale e me ne vado in paradiso ti sconsiglio vivamente di fare queste cose così quando facciamo un'opera indulgenziata per esempio con l'indulgenza premrenaria che la affidiamo e la offriamo per un nostro caro defunto va allo stesso discorso perché sì l'opera di per sé è un'indulgenza premrenaria ma siamo sicuri che il nostro signore la fa arrivare al defunto come tale se il defunto fosse stata una persona che veramente nella vita si è proprio comportata grossolanamente magari si è salvato veramente per come così si è rotta della cuffia io credo che sia non dico lecito ma ragionevole pensare che il nostro signore ha una persona così non è che la prima indulgenza premrenaria che uno gli offre gliela fa arrivare come tale potrebbe non essere così e quindi ne facciamo un'altra e facciamone un'altra un'altra ancora e facciamone un'altra ancora non perché noi dubitiamo della dottrina cattolica delle indulgenze no ma perché non possiamo sapere perché perché ti arrivi in quel modo c'è questa condizione soggettiva sia in chi la lucra coscientemente adesso sia nel destinatario qualora fosse un defunto è chiaro che nel defunto se sta impugnato c'è il distacco dell'affetto dal peccato anche peniale ma bisogna vedere se ci sarà avuto sulla terra e quanto questo conti dinanzi al signore non le possiamo sapere tante cose no? ecco allora il nuovo inquirito delle indulgenze ha semplicemente distinto tra indulgenza plenaria e parziale e che significa a seconda che rimettano la pena temporale in tutto o in parte quindi quanto cioè per farsi capire i peccati che hai fatto diciamo così ti causerebbero 150 anni di purgatorio d'accordo nel fuoco di cui 120 nel fuoco facciamo così ecco con l'indulgenza plenaria se la prendi come tale zero abbonato tutto se la prendi come parziale quei 150 diventano 90 che ne so questo è il senso l'indulgenza si può normalmente applicare o a se stessi o ai defunti e generalmente ci sono delle condizioni generali però bisogna leggere l'inquirito con delle indulgenze qualcuno la dico perché non le sanno per esempio l'eucaristia e il rosario sono due cose fondamentali per esempio partecipare alla messa in giorno feriale c'è l'indulgenza parziale solo per aver partecipato alla messa fare la comunione indulgenza parziale fare il ringraziamento dopo la comunione indulgenza parziale fare mezz'ora di adorazione in chiesa anche a tabernacolo chiuso quindi pensiamo a chi fa un ringraziamento di almeno mezz'ora indulgenza plenaria rosario in chiesa anche soltanto una colonna specifica l'inquiridium oppure in comunità comunitario indulgenza plenaria rosario detto per conto tuo fuori della chiesa indulgenza parziale lettura spirituale indulgenza parziale ascolto di un incontro di formazione vi do una bella notizia questa sera tutti quelli che hanno sentito questa questa catechesi indulgenza parziale perché stiamo facendo perché stiamo facendo formazione sacra qui e voi state dedicando chi l'ascolta una parte del tempo al Signore perché non penso che vi interessi niente di di questo povero prete cioè spero che il motivo dell'interesse è l'oggetto di cui questo povero prete parla che è appunto ciò che serve ad alimentare la nostra fede partecipare a un corso di esercizi spirituali indulgenza parziale se è di almeno quattro giorni sono soltanto alcuni degli esempi oppure ci sono le classiche opere per esempio la porziuncola vedete c'è un modo di dire e poi chiudiamo si applica si riceve l'indulgenza parziale alle solite condizioni quali sono le solite condizioni le solite condizioni sono queste qua confessione sacramentale entro gli otto giorni se uno sta in grazia anche otto giorni dopo il compimento dell'opera per cui è connessa l'indulgenza se uno non sta in grazia evidentemente prima partecipazione alla mese e santa comunione recita del credo e preghiera secondo le intenzioni del santo padre queste sono le solite condizioni per esempio l'indulgenza del 2 di agosto queste sono le solite condizioni la famosa indulgenza plenaria di Assisi adesso per esempio le celebrazioni il 31 di dicembre queste cose non sa quasi nessuno la partecipazione alla mese col canto del Tedeum indulgenza plenaria plenaria la mese del primo dell'anno la partecipazione alla mese del primo dell'anno con il canto del Veni Creator per chiedere al Signore le grazie per affrontare questo anno indulgenza plenaria le tre novene previste dalla legge della Chiesa anche nell'Enchiridium la novena dell'Immacolata la novena di Natale che stiamo facendo in questi giorni la novena di Pentecoste indulgenza pubblicamente recitata chiaramente quindi in Chiesa per questo vi la faccio sempre indulgenza parziale solo che per riceverla devi recitarla pubblicamente in Chiesa la festa del Sacro Cuore la recita della pubblica ammenda per il Sacro Cuore indulgenza parziale o forse plenare forse addirittura plenare ti fai il Signore della Croce con l'acqua santa l'uso dei sacramentali indulgenza parziale stiamo pieni stiamo ok ecco più se ne prendono meglio è anche perché non sappiamo come ci arrivano e per cui male non fanno mai bene ci aggiorniamo alla prossima puntata i suffraggi non abbiamo fatto in tempo a fare la prossima volta li prenderemo dai suffraggi che Dio vi benedica e che la Madonna vi protegga e se non ci dovessimo rivedere o risentire un Santo Natale a tutti